Sacerdote semplice ma straordinario, padre Solano Caesai di Paolo Risso. Il settimanale The Detroit Sunday, nel centenario dei cappuccini negli Stati Uniti, 2 dicembre 1956, pubblicava la foto di un frate che tutti conoscevano come il cappuccino più noto tra gli americani. Il padre Solano Caesai, la grande barba bianca di 86enne che era solito dire la vita religiosa, è come aver iniziato il paradiso sulla terra con Gesù. Barney, un ragazzo, era nato il 25 novembre 1870 a Oac Grove, Wisconsin, ed era stato battezzato il 18 dicembre successivo con il nome di Bernard, ma in casa presero subito a chiamarlo Barney, il sesto di 16 figli di agricoltori emigrati dall'Irlanda cattolicissimi. Cresce in un ambiente sano, in uno scenario splendido, sulle coste del maestoso Mississippi. Nel 1873 si trasferiscono a Big Rover, più vicini alla chiesa e con un podere più ampio. A otto anni il nostro comincia i primi studi e frequenta la dottrina cristiana a St. Mary's School. È forte e adatto alle cose pratiche, ricco di buonsenso e di lieto umore. Nel dicembre 1882, un altro trasferimento presso Burkhart in St. Croix County. Barney, preparato dal parroco, riceve la prima comunione. Ha imparato ad amare Gesù dai suoi cari e a dire ogni sera il rosario alla Madonna. Il suo fratello maggiore, Maurizio, entra in seminario e anche Barney pensa a farsi prete. Prega di più e nel frattempo lavora. Ha 15 anni e taglia legna. Ha 17, conducente di tram. Impara a fare il fotografo, a suonare l'organetto, il violino e dà concerti senza pretese. Pratica ogni genere di sport, escluso pugilato, che non vuole dare né ricevere pugni. Appassionato di baseball, cacciatore di linci e pescatore. Stile dei pionieri e non teme nulla. In cuore un grande amore a Gesù. Dal 1890, ventenne, altro trasferimento a Superior, come istruttore delle tramvie elettriche e convince i suoi a seguirlo per trovare maggiori e migliori possibilità di vita. Ed ecco che scocca la scintilla. Era sempre stato retto e limpido. Ma ora, presso i frati minori francescani, trova nel padre Eustachio Volner la sua guida. Il quale padre un giorno gli domanda Ma lo sai che Gesù è tutto? Che gli basta la vita? Perché non diventi sacerdote? Solo l'altare Già, è vero, Gesù basta alla vita e la vita offerta a lui viene spesa al prezzo più alto. Nel gennaio 1892, Barney, 22 anni, entra nel seminario diocesano di San Francesco di Sales a Milwaukee. Ma gli studi per lui sono troppo difficili. I testi sono in latino e i professori parlano tedesco. Con un impegno eroico, lui studia per quattro anni. Chierico esemplare, ma non ce la fa perché lui non sa né il latino né il tedesco. È costretto a rientrare in famiglia, ma lui vuol diventare sacerdote. L'8 dicembre 1896, durante il ringraziamento alla comunione, avverte che la Madonna gli dice «Va a Detroit, tra i cappuccini». A Natale è già a Detroit, al convento di San Bonaventura, dove capisce che Dio a Pterno lo vuole lì, in mezzo ai frati, dalla barba affluente. Il 14 gennaio 1897 veste l'abito e prende il nome di Fra Francesco Solano, ma subito lo chiamano Fra Solano. Si distingue per la gioia di stare sempre con il Signore, così che il suo maestro, padre Mesner, dice ai suoi novizi «Se siete tristi, andate da Solano». Imita le virtù del padre San Francesco d'Assisi. Il 21 luglio 1898 offre a Dio i primi voti e viene mandato al convento di San Francesco a Milguochi per gli studi teologici. Si fa stimare per il suo spirito di preghiera, ma si rivelano di nuovo le difficoltà negli studi. Il padre Antonio Rottensteiner lo aiuta in ogni modo, ma il risultato è modesto. Solano è ammesso ai voti perpetui, ma come si fa a ordinarlo sacerdote? Ci pensa il padre Rottensteiner. È tanto buono e pio, lo ordineremo e, come sacerdote, sarà per il popolo un altro curato d'Ars. Non gli sarebbe stata concessa la facoltà di confessare né di tenere prediche dottrinali. È un'umiliazione senza dubbio, ma allora era prevista questa soluzione dalla legge ecclesiastica. Il 24 luglio 1904 fra Solano Caesei a Milguochi viene ordinato sacerdote come simplex sacerdos, senza poter confessare, ma celebrando ogni giorno la messa e occupandosi delle cose più umili. Ecco ora padre Solano è davvero felice. Così sarà per 53 anni e lui, all'ultimo posto, farà amare Gesù ponendo al primo posto il santo sacrificio della messa. Davvero, sacerdos propter eucaristiam, lui per essere sacerdote, ha solo l'altare, ma gliel'ha dato Dio. Che vuoi di più? Miracoli della messa 31 luglio 1904 prima Santa Messa ad Appleton presso i suoi familiari. Il fratello Maurizio, che aveva lasciato seminario, vi ritorna portando con sé il fratello più piccolo, Edoardo, sostenuto dal padre Solano. Saranno sacerdoti entrambi nel 1912. Viene assegnato alla parrocchia del Sacro Cuore a New York, sacrestano e direttore dei Chierichetti. Così può stare a lungo a contatto con Gesù eucaristico in chiesa. Dei Chierichetti fa dei piccoli angeli serafini dell'altare e del tabernacolo. Molti di loro saranno sacerdoti dopo aver servito la messa al padre Solano. Dal 1906 è portinaio del convento e guida della Lega del Sacro Cuore. Visita i malati. Tutti lo vogliono perché sa ascoltare e confortare con lo stile di Gesù stesso. Si occupa dei cattolici impiegati come domestici nelle case dei protestanti affinché non perdano la fede. Intensifica i suoi rapporti per donare Gesù a più anime che può. Tra i suoi amici c'è pure il convertito dall'anglicanesimo Paolo Francesco Watson che lo invita a tenere il discorso alla sua prima messa il 3 giugno 1910. Nel luglio 1918 è trasferito alla Fraternità di New York parrocchia della Dolorata. Ancora sacrestano direttore dei chiarichetti e del gruppo dei giovani adoratore di Gesù eucaristico e apostolo della Santa Messa. Quando nell'ottobre 1921 viene mandato ad Arlem parrocchia di Santa Maria degli Angeli con l'incarico di portinaio e promotore dell'opera serafica delle Sante Messe la sua vita ha una svolta con una missione speciale per più di 30 anni. Tutti scoprono che in portineria c'è un frate straordinario e che ascolta tutti con affetto ed ha consigli con parole semplici ispirate da Gesù stesso. A chi lascia un'offerta egli indica l'opera delle Sante Messe sicuro che dal sacrificio di Gesù sull'altare vengono tutte le grazie. Invita tutti a confessarsi spesso a ricevere la Santa Comunione e a pregare per le missioni. Ai protestanti ai non credenti agli atei ricorda quanto a lungo ancora vuol fare attendere Gesù. Amico Gesù unico salvatore si trova soltanto nella Chiesa Cattolica. Da parte sua padre Solano prega e prega presto arrivano conversioni e guarigioni straordinarie e singolari i favori di Dio alle anime che vanno da lui. Il provinciale padre Benno Eichinger nel novembre 1923 viene a conoscenza di tutte queste cose e subito gli ordina per santa obbedienza di prendere nota dei fatti straordinari che avvengono. Lui obbedisce tra l'8 novembre 1923 e il 28 luglio 1924 registra 96 annotazioni di cui 41 riferiscono grazie speciali ottenute in seguito all'iscrizione all'opera delle sante messe. Nell'agosto 1924 è mandato alla portineria del convento di Detroit come portinaio e promotore delle messe ed ecco che senza volerlo di proposito una fiumana di gente si riversa attorno a lui attirata dalla fama della santità e delle grazie straordinarie che ottiene da Dio vive di Gesù e irradia Gesù ogni giorno 150 200 persone lo avvicinano e lui resta in portineria per 10 ore al giorno senza tregua né vacanze offre tutto e chiede tutto a Gesù nella sua messa il suo unico tesoro e nell'adorazione ecolistica prolungata anche di notte riempie sette grossi taccuini con 6.000 casi particolari dei quali 600 sono mirabili conversioni e guarigioni protestanti e testimoni di Geova che ritornano alla chiesa cattolica e si fanno ferventi di amore a Gesù moribondi che guariscono e riprendono le loro attività meraviglie di Dio per la preghiera di un umile frate ai graziati che vengono a ringraziarlo lui risponde tutto viene dal santo sacrificio di Gesù nella santa messa durante la crisi economica del 1929 e 1930 con tanti poveri padre Solano fa miracoli per procurare a tutti il necessario per vivere promuove la nascita di un ristorante dove ogni giorno i poveri a migliaia possono trovare il pranzo completo lui stesso va alla questua per alimentare quest'opera nel 1939 1940 un'altra tragedia la seconda guerra mondiale centinaia di famiglie si rivolgono al padre Solano per i parenti in guerra per la sua preghiera sono giunti aiuti insperati a soldati e loro famiglie l'uomo della gioia ciò che più affascina in lui è la sua letizia il senso di sentirsi amato di amore infinito da Gesù l'uomo Dio al quale soltanto vuol rassomigliare tutta la sua vita è incentrata nella messa che celebra con ardore sempre in crescita perché dice chi è più grande di noi sacerdoti che ripresentiamo Gesù vivo e immolato sull'altare ritiene un vero privilegio il suo stato di sacerdote di cappuccino e ne è fiero e felice a suo fratello Don Maurizio un po' inquieto ricorda spesso che cosa vuoi di più che essere sacerdote ai novizi preoccupati per la loro futura destinazione risponde che importa il luogo non c'è forse dovunque Gesù nel Santissimo Sacramento non vi basta lui per essere felici di lì si alimenta la sua felicità dall'intimità con Gesù eucaristico e vuole comunicare a tutti questo segreto della gioia che cosa sarebbe mai la vita senza l'eucaristia ma noi nella messa nel tabernacolo abbiamo tutto induce a lungo in meditazione davanti alle meraviglie del creato in un continuo cantico delle creature come il padre san francesco ma soprattutto contemplando l'incarnazione del figlio di dio Gesù bambino la sua vita e i suoi discorsi la sua passione e morte Gesù crocifisso legge le viti dei santi e li invoca come intercessori prima tra tutti la madonna ma è sazio di approfondire la conoscenza di lei dei suoi privilegi la sua immacolata concezione la sua corredenzione come mater dolorosa accanto al crocifisso unico redentore sano e robusto fino oltre gli 80 anni si diverte a giocare con i novizi a pallavolo a tennis a far lunghe passeggiate con loro in mezzo ai campi e ai boschi portando con sé il suo violino che suona stupendamente bene e un'infinità di caramelle e di dolcetti che distribuisce ai giovani i confratelli e a chi incontra all'inizio del 1956 86 anni la sua salute comincia a venir meno non perde la gioia anche con l'ossigeno ha voglia di cantare come al solito inni a Gesù e alla Madonna densi di ringraziamento quando non può scendere in portineria i frati impazziscono per le telefonate che da tutta l'America chiedono sue notizie passa ancora lunghe ore in cappella in adorazione a Gesù e il caristico ma fino all'ultimo vuole accogliere chi desidera parlargli offre il suo lungo patire per l'ordine serafico per i sacerdoti per la conversione dei protestanti degli ebrei che pure sono stati affascinati dal suo stile tutto verità e amore il 31 luglio 1957 dice oggi è un giorno meraviglioso stasera vedrò Dio si dilunga a parlare con calore dell'urgenza della conversione del mondo a Gesù e sul suo desiderio coccente di condurre gli uomini a lui verso le 11 di sera confida io ora do la mia anima a Gesù e va incontro a lui nella gioia 53 anni prima aveva celebrato la sua prima messa migliaia e migliaia di persone presero parte al suo funerale il suo biografo Patrizio Derun asserisce che oltre 200.000 persone pianstero la sua morte negli USA e in Canada sacerdote semplice che era vissuto solo per il tesoro più alto che è la Santa Messa la Messa che è il Cristo immolato la nostra vita è tutto è in corso la sua causa di beatificazione padre Solano Cesei Cappuccino come San Pio da Pietrelcina più che mai attuale attualissimo ed esemplare per il suo amore senza limiti alla Santa Messa che è in corso che è in corso che è in corso Grazie a tutti.